Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Quest'anno, con che mentalità si entra in campo? Allora, quest'anno si entra con la stessa mentalità... Parlate, parlate! Parlate di me! La vostra sua l'invidia, fanculo, chimio! Al mercatino delle pulci! Oh, però è carino, eh! Oh, questi sono belli! Ma sembra Bruce Lee! Sì, ma da dove cazzo te li sei? Fantozzi, scennili! Ma questi potevano essere un po' arti! Ma insomma... Oh! Dividetta! Per succhiare meglio i cazzi! Oh, me l'hanno levata! E il nome dello stesso simpatico Sofia? No, ce l'ho! Sempre! Cioè, io praticamente mi avevo detto... Se chi ti ha messo, te più me so! Cioè, è come se... Ma noi c'è stessa... quando parte il September? Ma noi... A settembre? Che giorno, porco Dio! Domani! Nooo, porco Dio! Stavo... Porco Dio! Stavo... Stavo miscliccando! Stavamo... 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 Paolino! Paolino! Palla Troione! Errore di Troione! Bellissima la palla! Per Bocciaroccia! Oi, oi, oi! Nostra! Buono! Hai il potere! Mi vedi col potere? Mi vedi col potere? Mi vedi col potere? È diventato il mio personaggio! Signore e signori! Turbino del fascismo! Palla che viene fermata! Ma rimane lì! Sì! Ma che raga! Arriva una brutta... Un brutto quarto d'ora! Vedo tre perforatori di fila! Io c'ho un camion schiacciatore! Oh, a tumore di merda! Devi pierca! Porco Dio! Sei un cancro a pedali! Porco Dio! Ma prima stavi a rire! Sì! Prima... Madonna! E allora dai! Vado a contrarlo! Vado! Porco Dio! Eravamo in tre! Rega, io sto sto a sta moto da sei turni! Ma che cazzo è Human Centiped! Ma ti è arrivata la nuova riforma? Che cos'è la nuova riforma? La nuova riforma dal primo ottobre! Tutti gli abbonamenti fatti da iOS Android saliranno a 6 euro e 50! Ma stai a di sul serio? Sì! Sì! Hanno rotto tutto! Scusa ragazzi! Ragazzi! Aggiornamento potenziamenti! Amisso Cosmico è ora disponibile! You are! You are! Vero io! Gay! What's up guys? Vero è... Oh tanto! Vero mi fai più 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 più! You are, the sound! Non lo ricordavo, i spai... Non lo ricordavo diverso! Ronaldo, if you want to come manti. Ciao! Oh ciao! Ma che può essere? Fofana, AFA, Milan No 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 Ma io non la vedo, trascinela sul browser che te la mette Trascinela sul browser che te la mette in automatico Fafana, farò tagliata Però scusate un invece speed è ancora vivo ancora vivo speed no che hai più volte raccontato quindi inutile che allora allora come diceva appunto pascoli abbiamo tutti un piccolo fanciullino dentro e questo fanciullino alle volte ci fa attivare certe azioni che facevamo da ragazzini da ragazzetti ti vantavi delle cose mac magari erano anche finte quindi io trovo ancora bello magari dire qua e la alle persone si a wow che puzza di palle oggi perché mi faceva ridere da ragazzetto niente di più niente di meno sono una persona molto pulita e voi che state invece qui a dire la non mi faccio bene fate schifo perché evidentemente quando camminate zio porco sembra che fate il rumore della città marco più di una volta ti ho ficcato il culo in faccia il marco poi basta e poi un'ultima ripresa incredibile di capri senti come finisce sta canzone ci fosse stato anche solo un amico tuo dentro l'avrei accettato si senti come finisce e come come ho lasciato la tromba alla fine senti la ma non è possibile ma è fabio ma lui mi ha poccato slurp appena ho messo la categoria dei ragazzini eh no però eh eh no però sta roba è vomitevole sei vomitevole e apri gaffè il sub poi che c'è sta ci sta l'adulto ok ah quindi noi stavamo vedendo i cosi non adulti ok no stai vedendo gli adulti poi che c'è mezza età e c'è ma ragazzi ma zazza è mister robot zazza sembra solo di better console porco dio è mister robot è un male grazie di due giuseppe grazie di 28 gta 6 prima di gta o noi in gta 6 prima di gta 6 pazzesca questa roba prima di gta 6 donne ok alcuni mi hanno sconvolto voi quante ne ricordate perché ce l'ho io vai sopra perché ci sono io c'ero io basta c'è certo mi ci sono fatto quattro giorni con manuccio che la cantava stecca del balletto ragazzi è stata noi che venivamo spottati su ovunque ha mai fatto tipo robe tipo stile attori inizio a mangiare talmente tanto che metto su 40 50 kg e poi te provi a dimagrire bello non ti pagano manco che vuol dire non è sano gli attori lo fanno eh sì perché vengono pagati in modo controllato comunque eh sì ci saranno 18.000 dottori ieri cioè capito io tipo peso sui 70 kg arrivo a 120 vediamo che cazzo succede quanti like ha? quanti like ha? 40 commenti 55 like eh? metti del like da solo ma guarda quello che ha scritto su esdrongo e poi ha messo una cosa diversa che mi dice gioia? mi dicono se premi su scopri in alto a sinistra poi cerca per nome scopri in alto a sinistra ti posso fare una domanda ma questi frate se li stanno in freestyle sui k di coppe che c'hanno ma facessero su e sub voglio dire almeno c'ha più senso ma c'è l'anno nessuno dei ma c'è l'anno nessuno dei